Depeche Mode, just can't get enough, 7.43 minuti, Crystal Radio, good morning Milano, in diretta qui per oggi martedì 2 aprile, vi ho detto appunto un weekend impegnativo per molti, insomma bisogna anche rimettersi in forma, molti di voi corrono ad esempio rimettersi in forma e si dice che correre faccia bene, io non lo so se fa bene a correre, so che fare a Milano Marathon però questo weekend potrà fare bene, perché vi dico questo perché c'è tutto un progetto da Milano Marathon che ha a che fare appunto con il charity program e proprio per parlare un po' di alcuni di questi progetti che si possono aiutare correndo per la Milano Marathon abbiamo in collegamento Giuseppe Cupertino, buongiorno Giuseppe benvenuto a Good Morning Milano, buongiorno buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori, Giuseppe lei appunto fa parte del gruppo degli avventisti d'Italia, mi dice bene come si chiama perfettamente perché non vorrei sbagliare la dicitura come si dice in questi casi e sta di fatto che voi avventisti promuovete dei progetti e grazie proprio alla partecipazione a Milano Marathon si possono raccogliere fondi appunto per questi progetti, mi spieghi meglio lei però che io poi ho pura di sbagliare. Sì, noi siamo la chiesa ventista del settimo giorno e noi partecipiamo alla Milano Marathon con 24 squadre, cioè praticamente 100 runner, 100 corridori che hanno deciso uno di farsi del bene muovendosi perché la Milano Marathon, la charity program è una staffetta quindi le squadre sono composte da 4 persone che fanno una tratta della maratona e quindi per farlo poi uno si mantiene in forma e fa dell'attività fisica preparatoria e due anche per fare del bene agli altri e noi abbiamo, ci sono già 3 anni che partecipiamo a questo evento raccogliendo fondi per quest'anno il progetto per il quale stiamo raccogliendo fondi e il progetto sono due progetti ideati da due ragazzi nell'ambito di un concorso di idee che abbiamo organizzato a novembre scorso e due progetti si sono diciamo meritati lo sforzo di essere finanziati e sono i progetti Stammi Vicino e Una Base per Stare Bene, che cosa sono? sono uno è un progetto per la creazione di un'app che possa assistere i caregiver, cioè coloro che seguono, aiutano i familiari di chi ha dei disturbi del comportamento alimentare quindi problemi legati all'anoressia, alla bulimia e l'altro è invece una base per stare bene ideato da un gruppo di ragazzi, sono tutti adolescenti quelli che hanno partecipato a questo hackathon questo modo di progettare comune, sono questi adolescenti che hanno pensato di creare dei momenti tipo gita scolastica diciamo così, però un po' particolari nelle quali incontrarsi con le classi, gli insegnanti e anche eventualmente dei genitori per parlare di benessere, elaborare progetti sani come attività fisica nella natura conoscere, conoscersi meglio anche reciprocamente, quindi dei momenti di lavoro di gruppo con gli adulti e gli adolescenti questi sono i due progetti per i quali stiamo correndo e raccogliendo fondi la cosa interessante è che sono entrambi dei progetti che partono da dei ragazzi giovani, giusto? esattamente voi avete fatto quello che lei ha definito hackathon, giusto? l'hackathon diciamo, speriamo un po', è quella cosa che, cioè voi dite ci sono dei problemi, la dico male, ci sono dei problemi nel mondo vediamo un po' voi menti giovani che cosa mi date come soluzione a questa cosa qui, quindi una tempesta di cervelli vera, vera e propria esattamente, proprio così, hackathon è una parola cognata mettendo insieme maratona e hacker, hacker, hackeraggio praticamente l'hackathon abbiamo messo insieme 50 adolescenti tra i 16 e i 21 anni che si sono riuniti per un weekend a novembre gli abbiamo detto, questi sono i problemi che esistono relativamente a tematiche di salute di fatti l'hackathon si chiamava hack4, hack4 con il 4, se cercate su internet trovate anche quello e in sostanza questi 50 ragazzi si sono divisi in 7 squadre e hanno lavorato su diverse tematiche per progettare e alla fine noi abbiamo deciso di premiare due progetti, due sono risultati vincitori ex equo e poi un terzo ha avuto una segnalazione e noi abbiamo deciso di finanziare questi progetti con l'otto per mille della Chiesa Ventista e anche raccogliendo fondi tramite la Milano Marathon. Ecco, sono progetti molto interessanti, voi poi insomma avete una lunga tradizione di progetti vari e variegati, giusto? Sì, precisamente, noi lavoriamo in particolare con l'otto per mille della Chiesa Ventista che come sappiamo è quella quota delle nostre imposte sul reddito che viene devoluta attraverso le firme che uno appone sulla propria dichiarazione ogni anno, attraverso questa quota che viene devoluta le comunità religiose dalla Chiesa Ventista e come anche altre comunità che hanno l'intesa o che hanno il concordato beneficiano di questo gettito e noi lo devolviamo interamente per progetti sociali, umanitari, culturali quindi assistenza agli anziani. Sulla zona di Milano per esempio abbiamo un impegno per la distribuzione alimentare per le famiglie che sono in difficoltà e quindi finanziamo questo tipo di attività finanziamo tutta una serie di attività per i ragazzi, per le attività scautistiche quindi abbiamo dieci sedi dove c'è un'attività a favore dei ragazzi preadolescenti e adolescenti e poi lavoriamo anche per l'integrazione, per sostenere anche le persone che magari fanno fatica a inserirsi socialmente e quindi creiamo dei momenti di scambio culturale per anche trovare il modo di essere accompagnati nel loro percorso di vita. Questo nella zona di Milano, poi a livello diciamo nazionale, seguiamo anche altri progetti, in particolare per esempio l'educazione all'accettazione di situazioni legate alla disabilità, per esempio noi abbiamo un percorso che si chiama marciapiede didattico con il quale andiamo nelle scuole per far vedere ai ragazzi che cosa significa rispettare le regole relative alla protezione dei percorsi per la disabilità quindi facciamo provare un ragazzo con la carrozzina sui marciapiedi dove ci sono le macchine parcheggiate, le biciclette oppure dove manca lo slitto per scendere dal marciapiede per far capire tutte queste problematiche e far capire che cosa significa anche avere questo tipo di limitazioni nel movimento. E' proprio questo Giuseppe, è proprio questo che dicevo, sono davvero tantissimi i vostri progetti, sono veramente tanti, di tutti i generi, ho collaborato anche in progetti per contrastare la ludopatia, il gioco d'azzardo insomma so che ci sono davvero tantissimi i progetti. Anche quello, sì sì esattamente per contrastare la ludopatia, il gioco d'azzardo e anche per contrastare l'usura tramite la fondazione Adventum che è un'attività diciamo che ha un peso rilevante nelle famiglie italiane e anche su questo abbiamo diversi progetti. Se gli ascoltatori vogliono approfondire possono andare sul sito 8permilleaventisti.it e lì trovano tutta una serie di progetti. Ci occupiamo anche molto di salute attraverso una rivista online e offline che si chiama Vita e Salute e quindi questo la portiamo avanti da anni. Ci sono anche dei corsi, podcast che uno può scaricare e anche relativamente alla ludopatia ci sono diversi podcast proprio per aiutare a capire il fenomeno e anche a combatterlo. Ecco, prima di chiudere invece torniamo appunto alla Milano City Marathon. Cosa si può fare per dare una mano a questi due progetti invece che porterete appunto alla Milano City Marathon? Allora, se chi desidera aiutarci nella raccolta fondi può andare sul sistema di raccolta legato alla Marathon, la Charity Marathon. Il sito di raccolta è Rete del Dono. Rete del Dono. Esattamente. E poi lì fare la ricerca Chiesa Adventista. Perfetto. Chiesa Adventista con la WV. E se fa questa ricerca nel, diciamo, lì nello spazio riservato trova poi i vari progetti che abbiamo finanziato negli anni precedenti e anche quello di quest'anno che si chiama Act for Health. È una parola inglese, non so se tutti riescono a… Sì, ce la facciamo, ce la facciamo, ci proviamo almeno. Giuseppe, la cosa che mi colpisce molto dei vostri progetti è perché lei, chiesa Adventista, quindi ovviamente c'è una chiesa a punto di mezzo, non mi ha parlato di mezza cosa religiosa però. Cioè, tutti i vostri progetti hanno a che fare con tutt'altro. Cioè, proprio è un impegno sul sociale, sulla vita di tutti i giorni, sembra, no? Giusto? Com'è questa cosa? Sì, sì. Allora, perché da un lato noi spendiamo le risorse, stiamo parlando di risorse 8 per 1000 che sono le risorse dei cittadini che noi percepiamo e noi riteniamo che non debbano essere spese per il culto ma debbano essere spese a favore del bene della società e della collettività e questo è il primo motivo. Il secondo è anche che noi crediamo che l'essere religiosi significhi impegnarsi per fare del bene e fare del bene agli altri e questo è anche un atto religioso, non per forza legato a un contenuto dottrinale ma semplicemente perché il Vangelo ci dice che datevi sarà dato, facciamo del bene, amo il prossimo tuo come te stesso e quello che desideriamo per noi stessi è sempre il bene in generale. Beh, allora grazie per tutto quello che fate e grazie davvero perché sono tantissimi i progetti che fate. Mi raccomando, fatevi un giro sul sito della Chiesa Ventista perché davvero c'è tanto e si capisce veramente questo punto di impegno di cui parlava poco fa Giuseppe. Io, Giuseppe, ringrazio tantissimo allora, buona corsa, va bene, mi raccomando. Grazie, io sarò a Milano per partecipare alla corsa, è il terzo anno che lo faccio ed è sempre un evento molto stimolante. Eh sì, ricordiamo quindi domenica 7 aprile appunto a Milano City Marathon e date una mano appunto a questi bellissimi progetti che si possono aiutare appunto su Rete del Dono, cercateli e li troverete. Grazie mille allora. Grazie mille a voi, buona giornata. Grazie mille, grazie mille a Giuseppe Cupertino, andate appunto come dicevo fatevi un giro sul sito perché trovate veramente tutte le informazioni possibili e immaginabili e potete trovare appunto tutto quello che può essere utile anche per capire meglio questo mondo. Poi appunto Milano City Marathon domenica potete dare una mano, aiutare e entrare anche voi in questo grandissimo mondo con rettedeldono.it. Adesso ci fermiamo per qualche secondo, andiamo in pubblicità, poi giornale radio e poi torniamo qua. Come sempre qui su Cristal Radio con Good Morning Milano. 7 e 56 minuti, martedì 2 aprile. Avanti così.